Ciao, sorella del mio cuore! E' esatto, è esattamente il giorno giusto, grazie, allora c'è il sacra che è arrivata? Sì, sì, dove è? Eccola! E guarda chi è arrivata! E guardala qua! Bella mia! Ciao! Ma tu mi sei collegata anche con i giovani, grazie! Con Alessandra si sono rilassate? Sì, 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 ottimo! C'è anche la betta da qualche parte! Ecco voi! Dov'è la betta? Betta? Ci manca betta! Eccola! Che quintetto! Grazie! Che onore! Tutte qui per l'Umbria! Assolutamente sì! Grandissime! Allora! Grazie! Bravi! Evviva l'Umbria! Sessora! Andiamo avanti! Insomma, hanno un poca fatica però mi sembra che veniamo anche adesso da un confronto Oggi è la notizia che siamo stati la settima destinazione del turismo italiano nei ponti Pazzesco! Più diamanti di destinazioni straniere ci siamo stati, quindi complimenti! Però è venuto ad Assisi Pannetti! L'abbiamo portato ad Assisi! L'altro giorno ha strappato un po' io! Dai, quando ti imitano! Ciao! E' finita! Vero? No, no, no! Allora! Allora! Lui! Emilio! Eccola qui! Un grande applauso! Vi prendete in un grande applauso! Stiamo in maniera! Benissimo, è bello ma non solo! Questa è la piazza! Bello! Belo! E' bello! Che bello! Buongiorno All upon me! Benello! Nostra? Splend arrivato! Grazie a tutti.